L'importante questione che va a toccare il pubblico dominio ed è recentissima è quella relativa all'articolo 14 della recente direttiva copyright, la direttiva 790 del 2019, quella direttiva che è stata approvata nel aprile del 2019 e che ha dato tempo agli stati membri circa due anni per essere implementata, per essere recepita completamente nelle varie legislazioni locali. Il tempo, la data definitiva era il 7 di giugno, oggi come sapete siamo esattamente il giorno successivo, 8 di giugno e ad oggi non si è visto l'ultimo pezzo dell'attuazione, nel senso che è stata fatta la legge delega, che è la legge con cui il Parlamento dà compito al governo di fare poi il decreto vero e proprio che deve intervenire sulla legge 733 del 41, la nostra legge sul diritto d'autore e questo pezzo manca ad oggi, quindi siamo in ritardo. Non mi stupisce nel senso che il legislatore italiano cade frequentemente in questa cosa, arriviamo sempre tardi, se il legislatore europeo ci dà il tempo, due anni di tempo, noi ce li prendiamo tutti, a volte andiamo fuori qualche settimana, qualche mese, vedremo cosa faranno. Tema abbastanza dibattuto, perché la direttiva è una direttiva abbastanza innovativa, non tanto su questo aspetto devo dire, perché la grande innovazione si avrà più che altro su questo nuovo diritto che si attribuisce alle case editrici di giornali, di informazione, di news, a favore di queste case editrici e a cui si attribuisce la possibilità di fare cassa sugli utilizzi che vengono fatti delle loro news attraverso le piattaforme social, le piattaforme web. Quindi quello effettivamente sarà rivoluzionario perché costringerà i grandi provider di piattaforme web social, che come sapete non stanno molto in Europa, sono da altre parti, quindi dovremo anche preoccuparci di far valere una norma europea su soggetti che in realtà dichiarano di applicare una normativa spesso americana o addirittura cinese a seconda dei casi e quindi ci sarà da divertirsi su quello, però ecco, quello sarà sicuramente innovativa, però tra le varie parti, tra le varie novità introdotte da questa direttiva ce n'è anche una che incide proprio sul pubblico dominio ed è relativo al pubblico dominio sulle riproduzioni delle opere dell'arte visiva. Se vi ricordate, quando abbiamo parlato dei diritti sulle fotografie, articolo 87, lo posso anche andare a riprendere perché ce l'abbiamo qua nelle slide, quindi poco male, l'articolo 87 dava questa definizione, diceva che, e forse l'avevo già anticipato, che rientrano nella definizione di mera fotografia, cioè di quelle fotografie non creative ma che comunque sono tutelate da un diritto connesso che dura vent'anni dallo scatto, quindi un diritto minore rispetto al diritto d'autore in senso proprio, però comunque un diritto che pesa, vengono comprese anche, vedete in questa definizione, le riproduzioni di opere dell'arte figurativa, cioè la fotografia che il fotografo fa a un quadro per essere poi ad esempio riprodotta all'interno del catalogo della mostra o all'interno di un libro di storia dell'arte, genera a favore del fotografo un diritto connesso che dura vent'anni dallo scatto. Ecco, questa cosa dovrebbe essere modificata, cioè non potrà più essere così perché l'articolo 14 della direttiva copyright, della nuova direttiva copyright, vedete, dice che gli stati membri provvedono a che, alla scadenza della durata di protezione di un'opera dell'arte visiva, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale, nel senso che costituisce una creazione intellettuale proprio dell'autore. Cosa ci sta dicendo? Vuol dire che una mera riproduzione bidimensionale di un quadro o di una scultura non può generare un nuovo diritto a favore del fotografo, a meno che questa fotografia non sia una semplice riproduzione ma il fotografo abbia contestualizzato il quadro, la scultura, che ne so, l'affresco in un modo tale che ha generato una fotografia creativa e quindi non siamo più sotto la definizione dell'articolo 87 ma una fotografia, opera fotografica in senso pieno, ok? Quindi articolo 2,7.7. In tutti gli altri casi non si può creare quel diritto. Quindi vedete che da qua in poi, quando finalmente avremo la norma che ci dice di preciso come il nostro legislatore ha voluto interpretare questa indicazione dell'Unione Europea, del Parlamento Europeo, dovrebbe appunto succedere questo, cioè una modifica di quella definizione dell'articolo 87 e probabilmente qualche indicazione in più all'interno delle altre norme in materia di pubblico dominio. Ok, quindi questo potrebbe essere interessante perché potrebbe, come dire, modificare tutta una serie di, anche, come dire, togliere un piccolo mercato perché sull'attività di fotografia di quadri e di sculture che poi portano alla creazione di cataloghi, di mostre, di libri, di storia dell'arte c'è tutto un mercato su cui molte agenzie fotografiche, molti fotografi professionisti basano la loro attività e non ci sarà più un diritto di riproduzione. Ciò non vuol dire che il fotografo lavora gratis, attenzione, vuol dire che il fotografo viene pagato semplicemente per la sua competenza, per le sue ore di lavoro, per la sua consulenza, per il suo servizio reso, ma non ha un diritto di riproduzione, quindi non può chiedere un tot per ogni tipo di riproduzione, non può essere, cioè non può vincolare il suo committente a sottoscrivere anche un contratto di cessione dei diritti. Ok? E credo che questo, soprattutto per le biblioteche che hanno archivi fotografici importanti e che contengono appunto opere, riproduzione di opere dell'ingegno fotografiche, è interessante. E questo vedremo poi, va a impattare anche sulle norme, adesso oggi non lo trattiamo perché nel nostro corso non era previsto, però lo dico così, diciamo come breve digressione, va a impattare anche sul codice dei beni culturali. L'articolo 107 e 108 codice dei beni culturali prevedono una riproduzione, dei canoni di riproduzione per i cosiddetti beni culturali. Quindi oltre al diritto d'autore, oltre alle opere, oltre al diritto d'autore del fotografo che si può mettere su una riproduzione di un'opera dell'arte visiva, dobbiamo tenere presente anche i canoni di riproduzione che l'ente che ha in custodia il bene, quindi il museo, la galleria, lo Stato, il Comune, cioè l'ente pubblico che ha in custodia un bene culturale, classificato come bene culturale, può chiedere per la sua riproduzione. Questa è una norma che abbiamo noi italiani e pochi altri paesi, ovviamente è una norma che normalmente hanno i paesi con un particolare patrimonio culturale da difendere, quindi chiaramente sono state pensate per difendere il nostro ricchissimo e ineguagliabile patrimonio artistico-culturale, indubbiamente questo va riconosciuto, però creano un problema perché di fatto aggiungono una sorta, io l'ho chiamato pseudo-copyright, su opere che il copyright in realtà non hanno mai visto. Cioè una delle sentenze uscite in questi anni sulla base di questi articoli 107 e 108 e che hanno condannato coloro che avevano fatto riproduzione di questi beni culturali senza versare un canone, riguarda il David di Michelangelo che sta a Firenze, alle gallerie dell'Accademia. Ed è bizzarro perché Michelangelo il copyright non ha mai visto lui stesso il diritto d'autore sulle sue opere, perché ai suoi tempi non c'era il diritto d'autore. Cioè nonostante siamo riusciti ad aggiungerci una sorta, non è un copyright perché appunto non viene trattata una legge sul diritto d'autore, ma ha la sua radice all'interno del codice dei beni culturali, che quindi è una norma di carattere più che altro diritto amministrativo più che il diritto delle proprietà intellettuali, però di fatto si comporta come se fosse un copyright, perché è un diritto di riproduzione. Cioè si deve pagare un canone alle gallerie, in questo caso gallerie dell'Accademia di Firenze, oppure al Museo degli Uffizi, oppure al Comune di Roma, per gli atti di riproduzione che hanno un carattere commerciale. Quindi una casa editrice, ad esempio, che vuole utilizzare il Davide per fare una copertina di un libro, non basta che mandi un suo fotografo a fare le foto e dire quindi io ho i diritti perché ho incaricato io il fotografo e l'opera è del rinascimento, quindi indubbiamente non ha più una tutela dal punto di vista del diritto d'autore, ma deve chiedere il permesso all'ente che ha in custodia del bene e chiedere anche quanto costa questa riproduzione. L'ente chiederà attraverso della modulistica che tipo di utilizzo verrà fatto e su quello calibrerà, verrà calcolato il canone da versare. Questa tipica norma, questo tipico principio del nostro ordinamento, molto discusso perché in effetti è oggetto di discussione da anni, io l'ho molto criticato, dovrebbe essere a sua volta ammorbidito e modificato in virtù di questo articolo 14 della direttiva e lo vedremo quando sua eccellenza il legislatore italiano ci farà l'omaggio del decreto che in teoria doveva essere pubblicato entro ieri. Va bene.